Andiamo a vedere un po' gli esercizi. Allora ragazzi, ricordate che best ball non è così. Vedi questi come è ruvido. Ci sono riuscita Jill, guarda. Vedi, tu stai in equilibrio, solo grazie a queste ali sotto best ball. E sento vibrare tutta la parte degli addominali quando sto in equilibrio così. Volevi parlare con Jill Cooper? Hai già comprato i suoi prodotti? Di questa palla stabilizzatrice che stiamo mostrando adesso, ti interessa? Pensi che ti possa interessare? No, non mi piace. Sì, sì, pronto. Ci sei? Ci sei? Ah ok, dico, vuoi fare una domanda a Jill? No, volevo solo dire che grazie a lei, grazie a questi. Le nostre offerte speciali. Quindi Anna Pia, un abbraccio grande per te, da parte mia e di Jill. Andiamo a vedere come fare però per avere in massa più di 100 euro, ok? Se avete visto in giro è così. Noi con 44,99 euro solo all'interno di questo evento in forma per l'estate, vediamo l'opportunità di avere la best ball, quindi la migliore di queste palle. È come se tu l'avessi migliorata praticamente. Grazie. Grazie.